La partita è stata risolta da Dossena con un gran tiro all'undicesimo del secondo tempo. Vediamo subito le immagini che sono state girate da Luciano Masi, il montaggio di Giovanni Arnofi. Ecco nel primo tempo in azione Eneas, dribbling, tiro e bella parata di Terraneo. Passiamo subito al secondo tempo, di gran lunga più vivace, ecco l'azione del gol. Garritano verso Eneas che perde la palla, ecco il tiro di Dossena vincente. Il Bologna è in vantaggio per 1-0, siamo all'undicesimo. Subito dopo, guardate le feste che fanno a Dossena, un'altra palla gol per il Bologna Eneas per Garritano che sciupa tirando alto. Passiamo al diciottesimo, Vullo da sinistra per Colomba, tiro di testa e nuova parata di Terraneo. Adesso due palle gol, due buone occasioni per il Torino. C'è un'uscita di Zinetti a vuoto e il salvataggio di Bacleckner. Poi a quattro minuti dalla fine, una palla gol per il Torino, clamorosa sui piedi di D'Amico che sbaglia così tirando alto. Da Bologna è tutto.